50 metri più sotto, il vostro collega passando su questa strada, probabilmente per arrivare alla base nostra, ha avuto un secondo di smarrimento e si è fermato qua e ha iniziato a sentire delle grida. Ha chiamato, ha fatto il nome del bambino e ha sentito una risposta, mamma. Quindi a quel punto ha provato a scendere un pochino, non è riuscito per le calzature che aveva ad arrivare fino al bimbo e ha pensato poi giustamente di chiamare aiuto. È stato ritrovato dopo 30 ore il piccolo Nicola di 21 mesi, sparito dalla sua casa di notte nella frazione di Campanara. Siamo a Palazzuolo sul Segno, qui un'intera comunità ha partecipato alle ricerche. C'era a prensione, il piccolo è stato trovato in fondo ad un dirupo di 30 metri a circa 4 chilometri dall'abitazione. Adesso sta bene, con la madre è stato trasportato in elicottero all'ospedale pediatrico Meyer per accertamenti. Qualche graffio sulle ginocchia, tanta paura e quella parola, mamma, sentita da una troupe televisiva che attraversava uno dei tracciati che oggi sarebbe stato battuto dai soccorritori. Un momento emozionante per chi lo ha ritrovato. È stato un momento emozionante perché noi siamo abituati a raccontare con distacco e freddezza. E quando si tratta di bambini, la cronaca insegna soprattutto in quest'ultimo periodo storico, è difficile che siano storie che abbiano un lieto fine. Sono felice e orgoglioso e soprattutto è il più bel riconoscimento della mia vita e della mia carriera aver restituito quel bambino di 21 mesi tra i braccio della mamma. Le dinamiche dell'allontanamento per i carabinieri sono abbastanza chiare. Il bambino sarebbe uscito di notte in autonomia, vestito e con i sandaletti ai piedi. Poi si sarebbe perso nel bosco. Un ambiente a lui familiare, a differenza di molti altri bambini che vivono in città. Il fatto di un bambino così, che vive nella natura, vede poche persone, il fatto che ieri ci sia stata tanta gente, elicotteri, rumore, l'abbia fatto più allontanare che avvicinare a casa. E questo l'ha portato magari ad andare sempre più avanti, allontanarsi. Questo è un mio pensiero comunque.